Mirko Bruccini, RTC Sport e RTC Telecalabria ti consegnano questo premio meritato, sei stato il calciatore delle quattro formazioni calabresi sempre presente di fatto nella top 11 Calabria, grande costanza, grande qualità e grande quantità al servizio di questo cosenza che si gioca ancora le sue carte playoff. No, ringrazio per questo premio a nome mio e abbiamo disputato oggi una grandissima partita, ci aspetta un ritorno infuocato perché andremo in uno stadio dove la tifoseria è il dodicesimo uomo in campo, però abbiamo dimostrato che anche oggi a Cosenza il dodicesimo uomo ci ha portato alla vittoria. Mirko, a prescindere da come andrà a finire, speriamo bene ovviamente, è stato un anno molto bello sia per il Cosenza che per te. Sì, positivo assolutamente, noi cercheremo di portare a termine il nostro obiettivo con tutte le nostre forze per portare anche gioia ai tifosi che hanno sofferto con noi tutto l'anno.